Pubblichiamo le linee guida su tutti quei comportamenti che riguardano le persone e le attività economiche derivanti dall'ultimo decreto del governo, quello che ha dato una stretta in tutta Italia a quei comportamenti che favoriscono la diffusione del virus. Noi sappiamo fin dall'inizio che l'unica vera soluzione, l'unico modo di affrontare questa emergenza è quella di ridurre al massimo ogni forma di contatto o seguire le prescrizioni mediche perché la prevenzione è l'arma più forte. Le nostre strutture sanitarie sono impegnatissime con ormai centinaia di persone ricoverate, decine di queste che stanno nel reparto di reanimazione con un impegno straordinario da parte di tutti quelli che ci lavorano. Per poter ridurre questo impegno l'unico modo è non ammalarsi, per non ammalarsi seguire in maniera rigorosa tutte queste misure di prevenzione. L'abbiamo detto tante volte, lo vogliamo ripetere all'infinito perché è la strada migliore per affrontare tutto quello che ci aspetta. Anche le imprese oggi si stanno interrogando se continuare nella loro attività o fermarsi. E' chiaro che il principio da salvaguardare è sempre quello, non mettere le persone in condizioni tale, in termini di vicinanza o di altro, da rischiare di essere contagiati. Quindi rispetto al principio generale ogni iniziativa che va in questa direzione è un'iniziativa buona. E' l'impegno che ognuno di noi deve mettere per aiutare l'intero sistema. Seguiamo queste regole, impariamole, apprezziamole perché in gioco è la nostra salute.